Grazie, Katie. E ne vai di casa. Lontano. E lui può arrivare dovunque ne si trovi. Ti rivolgo con me e ucciderla. Come liberarsi di lui? Ti vorresti battere con me, da uomo a uomo. Jennifer Lopez. Donna, amici. Via dall'incubo. Lunedì alle 21, su Canale 5. Quando la tosse crea disordine, Bronchenolo rimette tutto a posto. È un medicinale, può indurre sonnolenza, non usare sotto i due anni, leggere attentamente il foglio illustrativo. Se la tosse persiste, consultare il medico. Scegli un telefonino iMode e scarichi musica e suonerie gratis per un anno. Solo da Wind. È in edicola Millennium, la più sconvolgente serie TV. Millennium, tutte le grandi indagini di Frank Black, l'unico uomo in grado di fermare i serial killer. Millennium, da Chris Carter, l'autore di X-Files, in edicola. Marco, chi rottama la sua auto euro zero o euro uno e passa ad un euro quattro... Sì? Che succede? Eh non c'è, c'è scritto puntini. Ce lo dico io. C'è scritto puntini, puntini. Ha un bonus di 800 euro e fino a tre anni di bollo gratis. In più, Fiat moltiplica per 5 il bonus degli incentivi statali. Fino a 4.000 euro per il tuo osato che vale zero, più un super finanziamento con prima rata a luglio. Ho imparato a riconoscere il carico risparmiando fino al 30% delle risorse. Sono la tecnologia Sesto Senso. Whirlpool. Sensing the Difference. Con Energizer Lithium puoi scattare più di 600 fotografie. Con una pila alcalina standard, solo fino a 90. Energizer Lithium. La pila stilo che dura più a lungo al mondo. Spesso il dolore impedisce anche piccoli gesti quotidiani. Voltarene Mulgel. Ad azioni antidolorifiche e antinfiammatoria. Ti rimette in movimento. È un medicinale che ha controindicazioni e può avere effetti indesiderati. Leggere il foglio illustrativo. Voltarene Mulgel. Gioia di muoversi. Dal primo giorno lo hai protetto costruendo il suo sistema immunitario. Poi hai continuato tu o con il biberon. Ora che ha un anno, perché smettere? Continua a proteggerlo con il Latte Crescita Mellin. Il latte che da 1 a 3 anni aiuta a rinforzare il suo sistema immunitario. Giorno dopo giorno. E tu lo vedi crescere sano e protetto. Latte Crescita Mellin. Continua a proteggerlo. Con Mellin puoi. Mellin. Crescere Oggi. Signore e signori, buonasera. Eccezionale novità. La storica serie tv del maestro del brivido in DVD da collezione. Alfred Hitchcock presenta. Ogni uscita un DVD è un romanzo giallo. Prima uscita in edicola sui 4,99 euro. E il giallo continua su RTL 125 di Agostini. Uffa. Oggi sono proprio elettrica. Sarà che mi devono arrivare. Poi arrivano. E almeno un problema con Line Seta Ultra l'ho risolto. Line Seta Ultra Zone Più. La protezione in più. Nelle zone in cui serve di più. Al centro e sui bordi. Una sicurezza in più. Nei momenti in cui serve di più. Line Seta Ultra Zone Più. Prenditi la tua libertà. Somatoline Cosmetic trattamento pancia e fianchi. Snellisce la silhouette in quattro settimane. Somatoline Cosmetic. Funziona. Serial Killer Movie Collection. I thriller più famosi e inquietanti in una raccolta di DVD imperdibile. Serial Killer Movie Collection. Il primo film in silenzio degli innocenti è già in edicola. Vai ora! Raffreddore? Rischio febbre? Tachiflu Deck. Combatte i sintomi da raffreddamento e decongestiona le vie nasali. Tachiflu Deck. È un medicinale leggere attentamente il foglio illustrativo. Tachiflu Deck. E la giornata continua. Da Angelini. Non ci tengo a perdere. C'è un terzo uomo. È lui che dobbiamo cercare. Andiamo a prenderlo. Ci siamo. RIS 3. Una prima assoluta. Prossimamente su Canale 5. Tiralo su, sembra più grosso.